Posso dirlo che sono sorpreso ragazzi, partiamo dal fatto che io oggi non volevo fare i video perché ho detto non c'è calcio, domani si inizia quella Serie A, sto tranquillo, ma qui tranquilli non si può mai essere ragazzi. Avete quella maglia lì dietro, la maglia di CR7, esattamente, quello che ci risolve quasi sempre le partite dopo Morata? Bene ragazzi, OneFootball mira una bellissima notizia, praticamente Pirlo ha deciso di non convocare Cristiano Ronaldo contro il Benevento. Perché? Perché comunque, siccome la Juve ha tante partite da fare, Pirlo vuole preservare il miglior giocatore che abbiamo, che pensandoci può anche avere senso un pochino, ma se andiamo ad analizzare le partite con cui Cristiano Ronaldo non c'è stato e in quelle due partite lì abbiamo preso due punti, allora non ci può stare ragazzi. Parliamo intanto, a prescindere, parliamo del fatto che comunque Cristiano Ronaldo è riposato perché Destino vuole purtroppo, essendo che comunque è stato colpito dal Covid, le sue giornate di riposo le ha avute a casa essendo in quarantena, quindi si è riposato obiettivamente. Ora io non capisco perché Pirlo non me lo porta contro il Benevento, a Benevento. Questa è una cosa di sottovalutare la squadra ragazzi, non bisogna mai sottovalutare le squadre, perché anche il Crotone e la Sverona sul piano della squadra, sul livello della Rosa, erano molto inferiori a noi. Ma li abbiamo pareggiati entrambi perché ci mancava quello che davanti ci buttava la palla dentro, perché a parte Morata che faceva qualcosa, il resto è blackout. Voi mi direte, eh sì però Ale, devi anche avere fiducia nei giocatori, non potete sempre dipendere da Ronaldo. Vi do anche ragione su questo, ma per il momento è così ragazzi, per il momento dipendiamo da Ronaldo. Come il Milan dipende da Ibrahimovic, come l'Inter dipende da Lukaku, come la stessa Lazio se vogliamo, molte volte dipende dallo stesso Luis Alberto con Immobile. Ragazzi, la realtà è questa, cioè noi senza Ronaldo facciamo veramente fatica. E secondo me non era necessario non convocarlo, io spero che poi magari sia una bugia, spero che comunque Pirlo cambi idea all'ultimo, perché veramente ragazzi, Cristiano Ronaldo non è stato convocato. Io non dico che la vedo brutta per domani, ma ci vuole uno come lui ragazzi, cioè ce l'ha comunque, si è riposato, anche se lui non voleva, che è stato costretto per i problemi che ha avuto del Covid. Si è riposato già, perché non portarlo? Almeno in panchina, non vuoi farlo giocare? Perché non vuoi farlo stancare? Te lo porti in panchina, in modo che comunque se la partita va male, lo inserisci e ti può anche cambiare la partita, Ronaldo, dalla panchina, bello fresco, lo metti, un po' come lo Spezia, no? Che è ritornato dal Covid, l'ha messo in panchina, poi è entrato, ha fatto doppietta. Almeno in panchina portatelo, ma non che me lo lasci a casa direttamente. Io questa cosa qua da Pirlo non la capisco veramente. Infatti sono rimasto sbalordito, ragazzi. Poi mi farete sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, ma io me lo sarei portato a CR7. Almeno in panchina, almeno. Cioè, qua sottovalutiamo l'avversario. E la Juve è forte anche senza CR7, perché se ne va bene degli interpreti, nome per nome, giocatore per giocatore, si è superiore al Benevento anche senza Ronaldo, perché è così. Però senza Ronaldo facciamo fatica. L'ho visto contro Crotone, l'ho visto contro Verona. E se non era per Ronaldo, anche con la Roma doveva perdere. Quella Roma è stato un punto d'oro, perché vedendo la Roma adesso come gioca, che è una grande squadra ed è forte, è stato un punto d'oro con l'uomo in meno fare un pareggio. E ce l'ha risolta sempre Ronaldo. Quindi, pochi cazzi, cioè, Ronaldo doveva essere convocato. Almeno convocato. Io questa è la mia idea. Poi anche sicuramente Ronaldo non l'avrà presa bene, perché già comunque è dovuto star fermo due turni per il Covid. Sappiamo benissimo che lui ambisce il record, vorrebbe comunque ogni volta segnare sempre di più, conquistare anche il titolo di capocannoniere, se vogliamo, perché da quando è in Italia ancora non c'è riuscito. È già stato due turni fermo di stop. E in più, comunque, adesso non lo fa giocare, sicuramente Ronaldo non è contento, ragazzi. Non è contento anche di questa scelta. Comunque, vabbè, io volevo dirvi solo questo. Cioè, volevo dirvi la mia. Fatemi sapere voi, tifosi di Ventini, veramente cosa ne pensate di questa scelta di Pirlo. Io non la provo. Io non la provo. Poi mi saprete dire voi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Comunque, commentate se vi va. Fatemi sapere, appunto, voi cosa ne pensate di questa scelta improvvisa, perché non me la sarei mai aspettata. E soprattutto, se vi fa piacere, anche iscrivetevi al canale. Qui dà le bianche di tutto. Bella.